Papa Francesco esorta a pregare nell'intenzione di preghiera nel mese di luglio affinché i sacerdoti, nei momenti di fatica e di solitudine della loro missione pastorale, siano confortati e aiutati. Il videomessaggio, promosso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa, è incentrato sul tema della stanchezza dei sacerdoti. Preghiamo insieme, afferma esattamente Francesco, perché i sacerdoti che vivono con fatica e nella solitudine e nel loro lavoro pastorale si sentano aiutati e confortati dall'amicizia con il Signore e con i fratelli. Vediamo. Il cansancio de los sacerdotes, saben quantas veces pienso en eso? I sacerdoti, con le sue virtù, con le sue defecti, con le sue difficolti, con le sue lavori in tanti campi. E con tanti frenti abierti, non si possono essere parati dopo una desilusione. In questi momenti, è buono che ricordi che la gente ha chiesto dei pastori, che la gente ha chiesto dei pastori, ha chiesto di loro, ha chiesto di loro. Preghiamo insieme, che i sacerdoti che vivono con fatica e nella solitudine il lavoro pastoral, si sentano aiutati e confortati per la amistà con il Signore e con i fratelli. Grazie. 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 Grazie.